In data 19 e 20 dicembre saranno condotti ulteriori test relativi al sistema AT Alert, il quale rappresenta il sistema di allarme pubblico gestito dalla protezione civile. Questa nuova fase di verifica coinvolgerà specifici comuni situati nelle regioni di Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. L'obiettivo primario sarà simulare situazioni di rischio, focalizzandosi in particolare su aree esposte a potenziali incidenti industriali o al possibile collasso di importanti dighe. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. Dopo la prima serie di test condotti tra settembre e ottobre, la protezione civile ha programmato una nuova fase di verifica del sistema di allarme pubblico IT Alert per mezzogiorno di martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. Durante questo periodo, saranno inviate notifiche testuali e sonore ai telefoni cellulari collegati alle celle telefoniche nelle aree coinvolte. Questi nuovi test seguiranno lo stesso approccio della precedente simulazione, consistente nell'invio di un messaggio testuale visualizzato come notifica sugli schermi degli smartphone. Tuttavia, a differenza delle prove precedenti, si simuleranno due emergenze specifiche in territori ben definiti, un incidente rilevante in impianti industriali e il collasso di una grande diga. Le allerte di prova saranno trasmesse solo alle aree potenzialmente interessate a tali scenari di rischio, con l'obiettivo principale di valutare l'efficacia del sistema nell'emettere avvisi nelle zone circoscritte. Questa nuova fase di sperimentazione è in linea con la direttiva del 7 febbraio 2023, che stabilisce che, una volta superata con successo la prima serie di test, il sistema IT Alert può essere attivato per rischi specifici. Il 19 dicembre alle 12 verrà inviato un messaggio testuale simulato riguardante un ipotetico incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla direttiva Seveso. Gli smartphone suoneranno e le notifiche di allarme di IT Alert arriveranno entro un raggio di 2 km dagli impianti specificati in Puglia e Veneto. Il test inviato sarà il seguente. Test test questo è un messaggio di test IT Alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it test test. La giornata successiva sarà dedicata ai test di allerta per il collasso di una grande diga. Anche in questo caso i messaggi di test saranno inviati alle 12, suoneranno gli smartphone e le notifiche di allarme di IT Alert raggiungeranno specifici comuni in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Il testo simulato sarà il seguente. Test test questo è un messaggio di test IT Alert. Stiamo simulando il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it test test. Le simulazioni coinvolgeranno sia un messaggio testuale visualizzato come Notifica che un segnale audio. In caso di ricezione di un messaggio di test, non sarà necessario compiere alcuna azione, poiché il sistema IT Alert ha lo scopo di notificare tempestivamente in caso di emergenza, anche in assenza di connessione dati. Tuttavia, sarà possibile cliccare il link al sito di IT Alert incluso nel messaggio per ulteriori informazioni. IT Alert opera attraverso la tecnologia Cell Broadcast, con la protezione civile che invia gli avvisi alle celle telefoniche, le quali li diffondono a tutti i telefoni cellulari connessi a quelle celle. Questo sistema non richiede l'utilizzo di Internet, garantendo che l'arrivo delle notifiche non implichi alcuno scambio di dati tra i dispositivi. Pertanto, il sistema IT Alert non comporta rischi per la privacy. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social, troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.